Psicologhe su TikTok. Ah, io ho aiutato tanti insegnanti ad aggiornarsi, a migliorarsi, a mettersi in discussione, a capire meglio il senso del proprio lavoro, che è esattamente come se un muratore facesse un corso di aggiornamento per macellai. Anche i macellai dovranno capire qual è il verso migliore per tagliare la carne, macellare un animale. Insomma, avranno bisogno anche loro ogni tanto di darsi una aggiustatina. Ma chi lo fa? Lo fa nel caso degli insegnanti uno psicologo? Una domanda, ma ci sono mai venuto io, insegnante, da una psicologa a dire come deve fare il proprio lavoro? Mai.